E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, siamo qui per annunciare un evento speciale in vista dell'uscita di Shadowkeep. Infatti, in collaborazione con Zataraptor e con il gruppo Whatsapp Destiny PS4 2 SR, nella quale potete trovare consigli, aiuti e gente per giocare per qualsiasi attività, abbiamo deciso di organizzare questo contest. Il cui premio sarà un'edizione base di Shadowkeep. Il contest quindi partirà immediatamente e finirà verso la fine di agosto, non abbiamo ancora una data precisa ma adesso vi spiegheremo con precisione. Il vincitore, come ho detto, riceverà un'edizione di base dell'espansione di Shadowkeep, quella che per intenderci uscirà a settembre, valida per qualsiasi piattaforma, PC, Xbox o PS4. Per raggiungere però il premio finale, i partecipanti dovranno attraversare quattro differenti fasi. Ed è proprio qui che annunciamo la prima di queste. Questa si concluderà il primo agosto e durante la prima settimana d'agosto annuncieremo chi passerà alla fase successiva grazie a un evento in live. Per partecipare vi basterà infatti iscrivervi ai canali, commentare qua sotto o sotto il video che è uscito in contemporanea sul canale di Zataraptor con l'hashtag partecipo e condividere il video. Una volta fatto ciò sarete automaticamente entrati nella prima fase. Abbiamo pensato di fare un qualcosa di particolare, di conseguenza in questa prima fase sarete voi a dovervi mettere in gioco. Avrete tempo quindi fino al primo agosto per mandarci all'email che trovate in sovraimpressione e anche in descrizione un video della durata di 2-3 minuti di qualunque genere. Per intenderci abbiamo deciso di chiamarlo un mini move of the week. Per chi non sapesse cos'è il move of the week, questo è un video che viene scelto da Bungie ogni settimana e che viene pubblicato poi nel settimanale. Di conseguenza deve essere un video originale e riguardante qualunque ambito, può essere divertente, può essere un video magari di skill in crogiolo, un montage, un gansink, qualsiasi cosa. L'unica condizione è che debba rientrare all'interno della sfera di Destiny, non necessariamente in game. Detto questo ragazzi avete tempo fino al primo agosto per mandarci il video alla mail, ripeto che trovate in sovraimpressione e in descrizione. Vi prego di mandarlo in mp4 per evitare eventuali problemi con la lettura del file e mi raccomando di inserire il vostro nickname di YouTube all'interno della mail con cui lo manderete. E al termine quindi della prima fase annunceremo la data precisa durante la prima settimana di agosto in cui streameremo questo evento e andremo a scegliere le 12 clip che passeranno alla fase successiva. Per quanto riguarda appunto le tre fasi successive queste saranno tre sfide che si svolgeranno ognuna su uno dei canali. Non vogliamo ancora svelarvi però di cosa si tratta con precisione, lo saprete infatti al termine dell'evento. Detto questo ragazzi vi ricordo di partecipare numerosi iscrivendovi ai canali, commentando con l'hashtag partecipo e condividendo il video. Mi raccomando stupiteci con i vostri movie for the week e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!